Quante volte vi è capitato di lasciare il vostro animale domestico a stecchetto perché non avevate sufficiente cibo in casa? Per evitare di trovarvi in queste situazioni si può scaricare sul proprio smartphone app che vi renderanno l'organizzazione della vita col vostro animale domestico più facile. Hanno interfacce semplici e un'esperienza utente personalizzabile permettendo di avere notizie prodotti pertinenti ad ogni singolo accesso. Una delle funzioni principali è il in ordine automatico di prodotti già acquistati. Questo vi permette di ricomprarli velocemente senza perdere tempo a ricercarli. Le più evolute offrono anche la possibilità di accumulare punti con gli acquisti ottenendo coupon sconto per i nuovi ordini.